Sindaco, sicuramente un segnale importante per l'economia locale in questo periodo di pandemia. Il Comune di Petralia Soprana in un momento di grande crisi e difficoltà economica ha pensato di varare un piano da 50.000 euro per cercare di stare accanto agli artigiani che realizzeranno delle opere di arredo urbano per migliorare la qualità del nostro paesaggio, già benissimo di per sé, e ancora dare l'opportunità a loro di fare del lavoro. Anche per i liberi professionisti c'è la possibilità di concretizzare alcuni progetti voluti dall'amministrazione comunale? Stessa cosa abbiamo fatto per i liberi professionisti, abbiamo affidato loro l'accatastamento dei beni comunali che da tantissimi anni, da quando sono stati realizzati, sono stati realizzati in proprietà o private o della reggia trassera e mai accatastati. È giunta l'ora di risolvere un problema tabico per Soprana.